Le famiglie veronesi sono meno stressate dalla crisi economica che stiamo vivendo da alcuni anni a questa parte rispetto alle famiglie italiane in genere. È questo in estrema sintesi il risultato della ricerca condotta dall'osservatorio sui consumi delle famiglie condotta nella città di Verona tra il 28 novembre ed il 7 dicembre del 2014 su un campione di 500 persone con almeno 25 anni di età. Un dato su tutti, la percentuale di famiglie in netta difficoltà che nella città scaligera sono in percentuale inferiore il 16 per cento contro il 31 per cento del resto d'Italia. Le famiglie veronesi non è che abbiano sentito meno delle altre la crisi soltanto per la grazia ricevuta, l'hanno sentita di meno perché hanno saputo organizzarsi. Da un lato sanno comprare meglio, confrontare meglio le cose e dall'altro hanno maggiore rispetto per le cose. Lo spreco non esiste nelle nostre famiglie. I veronesi stanno meglio degli italiani però comunque hanno dovuto necessariamente attivare una strategia per risparmio. Hanno ad esempio il 63 per cento ci ha detto abbiamo cambiato il modo di fare la spesa. Sono state ridotte le spese su tutti i settori merceologici però ad esempio l'altra faccia della medaglia è che hanno ridotto la spesa su abbigliamento, calzatura, arredamento gli stessi settori merceologici nei quali i veronesi però perseguono una certa fedeltà di marca quindi hanno anche la possibilità di acquistare i brand che da sempre hanno acquistato. Hanno però ad esempio ridotto le cene. il 51 per cento degli intervistati ci dice abbiamo ridotto le uscite per le cene quindi usciamo meno a cena. Il 25 quasi 26 per cento ci dice non usciamo più a cena. Quindi come dire strategie di consumo sì stiamo meglio sentiamo meno la crisi ma necessariamente bisogna attivare qualcosa. La cosa positiva è che un consumatore un po' sul trend italiano molto attento, attento a non sprecare, attento alle offerte, alle promozioni, prima di buttare guarda se l'oggetto può essere utile a qualcun altro quindi un'oculatezza interessante anche bella come aspetto. Di certo i veronesi hanno attivato delle strategie. Un dato interessante nella ricerca riguarda poi il peso economico sulle famiglie veronesi del famoso bonus di 80 euro mensili distanziato dal governo Renzi. Bonus che stando all'indagine non ha inciso sui consumi. La nostra opinione è che le famiglie vanno aiutate con dei servizi e non con del denaro. Il denaro in una situazione di incertezza che c'è anche a Verona, benché meno che in Italia, di solito non torna in circolo, viene tesorizzato. Infatti i depoiti bancari sono raddoppiati in quattro anni. Quindi sono i servizi che danno alle famiglie maggiore serenità anche per il futuro e possono quindi modificare le cose. Grazie.